Gioia ha solo 24 ore da vivere? Mamma, per favore non morire. Affinché Gioia sopravviva, dobbiamo scoprire chi ha fatto questo. Guarda il video fino alla fine per vedere se riusciamo a farcela. Non preoccuparti, è stato uno di voi, bambini del film. Bambino del film. Eri tu? No, l'ho lanciata sulla luna ma era solo per divertimento. Era così dolce, rispetto a te. Ci stavamo divertendo finché degli uomini in giacca non l'hanno rubata. Cosa c'è? Questo uccello non ti appartiene. Dobbiamo restituirlo al suo vero proprietario. Per favore, mantieni la calma e seguici. Cosa? Quindi l'hai rubato a questo bambino? Stavamo facendo degli esperimenti su di lei. Opila, bevi questo. Ok. Ah, sei un perdente. Quindi l'hai incisa. Andrai in prigione. No. Un minuto. Chi li ha uccisi? Tu. Quindi è stato la blama. No, stavo facendo uno scherzo ai youtuber in quel momento. Ti vedo. Adam scappa. I'm a genius. Go! Go the opposite. What the hell? Go right, go right, go right, go. Go! What is going on? Oh no. Wow ragazzi, Justin è pazzo. Oh mio Dio. Hold up. Wait a minute. Cosa faccio? Eww! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, la mia ultima vittima. Oh mio Dio, quindi l'hai uccisa. No, te lo prometto. Non sono stato io. Cosa? È morto. No, no, no. Non è possibile. Aspetta. Cos'è questo? Bambam, è tuo. Forse. L'hai ucciso. No, non sono stato io. Ero su un palco e tutti mi odiavano perché mi trollavano. Yeah, è free. Yeah, uh-huh. Ah, perdente. Perché hai fatto questo a me, bro? Perdente Bambam, ora tocca a me. Na 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 na. Amo cantare. Yeah. Yeah. Ti vogliamo bene, Bambalena. Perché hai fatto questo a me, bro? La la la. La la la. Non può essere così. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Guardati dietro. La 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 la. La 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 la. Quindi hai ucciso Bambalena. Non è possibile. Ma chi ha ucciso Opila allora? Ho visto che qualcuno l'ha colpita con l'auto. Ehi Opila. Attenzione. C'è un guidatore scadente. Oh mio Dio. Ho visto che Pigsten controllava l'auto. No, non sono stato io. Mi sono innamorato di lei. Chiederò un appuntamento alla mia cotta. Opila. Ok. Un'ora dopo. Ok. Mi chiedo cosa mi ha fatto. Cosa? Pesche. 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 Ti amo. Ah. Non sarò mai con te. L'hai incisa con un coltello. No. Era uno scherzo. Ma lei mi ha fatto uno jumpscare. Era uno scherzo. Te lo prometto. Non mi importa. No. Per favore smettila. Sfermati. No. Forse qualcuno della tua famiglia ha voluto aiutarti e l'ha uccisa. No. Mio fratello si è fuso. Disgustoso. Quina mene. Chi l'ha ucciso? Cos'è questo? I capelli di Amanda. Stavo usando il coltello. Ma non suopila. Guarda. Bello lavoro. Possiamo usare un coltello affilato. Non penso che dovremmo farlo da soli. È sempre buono essere coraggiosi quando sei da solo. Guarda. Sono un pirata. Ah. Non sembra sicuro. Oh mio Dio. È stato così irresponsabile. Ma aspetta. Cos'è questo? Nastro. Non ascoltatela. Ha ucciso Opila. Te lo prometto. Che hai detto? Oh mio Dio. Cosa? Willy. Adesso tocca a te. Cosa? Oh mio Dio. Mi hai salvato. Sì. Aspetta. Posso vedere il tuo coltello? Sì. Piume dell'uccello Opila. No. Mi stava bullizzando. Ma non l'ho uccisa. No. Per favore no. Non ferirmi. Ah. Per denti. Ti taglierò il naso. No, 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 no. No. Prenderò vendetta su di te. Cane, puoi darmi il tuo naso. Fammi fare per te. Grazie. Dammi il tuo naso, amico. Mai. Quindi hai ucciso l'uccello Opila? No. No. Perché l'hai ucciso? Non sono stato io. Stavo togliendo le maschere a Garten dei personaggi di Ban Ban. Sono sceriffo e oggi vedrò le facce di tutti quei criminali. Prima selina di lumaca. Amanda. Come hai fatto a saperlo? Il prossimo nab nab. Per favore. No, no, no. Poliziotto Barry. Fratello. Sceriffo. What? Signor Flynn Flem. Wow. Ora Zolfius. Cosa? Noni. Tuberi. Porcaro. Per favore, non mostrare questo in camera. Mr. Beast. Credevo che tu stessi regalando dei soldi. Ora Kanguro. Adam di Lenkybox. Ora tu. Justin di Lennycox. Hold up. Wait a minute. Tempo di Ban Ban. Per favore, non mostrare questo. Cric Craft A. Ti amo fratello. Bambalena. Jenna. Ma aspetta. Ne manca uno. Uccello Opila. Aspetta. Fermati. Tornare. Per favore, lasciami in pace. Mai. Sei arrestato. Non è possibile. È sopravvissuta ed è andata a cercare aiuto. Ho bisogno di aiuto. Questa è la famiglia perfetta. Facciamo una reazione a qualche jump scare. Chiederò loro di adottarmi. Ehi, potete adottarmi? Cibo. Cibo. Quindi siete stati voi. L'avete mangiata. Oh mio Dio. No. No. Sono venuti per lei. Chi? Robin, no, no. Non è possibile. Di nuovo le luci. Ehi, l'avete uccisa voi? Per parlare dobbiamo avere la testa al suo posto. Ok, lasciatemi disegnare per voi. Fatto. Il prossimo. Bene. E l'ultimo. Siete pronti? Controlliamo. Mi fa male. Ok, ora dimmi cosa hai fatto a Opila. Ci deve dei soldi, quindi l'abbiamo spaventata. Ok, dateci i soldi o useremo i nostri jump scare su di voi. Robin, no, no, no. No, per favore, non sopravvivrei. Quindi date i soldi. Non li ho. Jump scare. Metti mi piace e iscriviti prima che tutte le paure passino e salverai Opila. L'hai uccisa. Il caso è chiuso. Aspetta. Cosa? Ma ci bullizzava fin dalla nascita. Credo sia giunto il momento. Amico, spaventerò questi ragazzi con uno spavento improvviso. Ah, sono un buffone. Ma non è comunque una ragione per uccidere le persone. Andrai in prigione. Ma non è morta. Ehi, ehi. Fermati. Cosa hai fatto a quelle entità? Ome, pensavo che avrebbero svelato il mio segreto. Quale segreto? Hai ucciso Opila. Ho usato la magia per tagliarla in due, ma non ha funzionato. Oggi taglierò Opila in due. Oh mio Dio. Spero tu sappia cosa fare. Iniziamo. Controlliamo. Ome, va bene. Non sembra buono. OMG, Opila mi dispiace. Ok amico, andrai in prigione per questo trucco di magia. No, aspettiamo il meglio. Cosa ho fatto? M, chi sei? Hai ucciso la falsa Opila. Ora decidi quale è la vera. Questo è falso. Ho indovinato giusto. Per verificare quale è reale, disegnati. Fatto. Opila disegna incredibilmente bene, quindi sei fuori. Avevo ragione, disegna ora il tuo amore. Fatto. Va bene, sappiamo tutti che Opila ama lo sceriffo. Avevo ragione, non ho ucciso Opila. Quindi se non sei stato tu, allora chi? Non è possibile, il prossimo. Ah, ah. Aspetta, ehi. Ah. Cosa? Fermati. Perché ridi accanto a lei? Ridevamo perché la odiamo. Perché? Perché voleva mostrare a tutti le nostre vere voci. Sto per mostrare le vostre voci reali di Garten di personaggi Bambam. Prima Lumaca. Per favore, fa male. Ah. Prossimo, sceriffo. Dobbiamo porre fine a questa follia. Non abbiamo molto tempo. Arriveranno presto. Poi, Jumbo. Vieni qui. Cosa hai detto? Vieni qui? O qualcosa del genere. Il prossimo Sey Fiddles. Sentiamolo. Voce straordinaria. Sei solo un insetto. Adoro questo verso. Ok, è l'ultima. Zolfio. Per favore, non mostrarlo. Per favore, non mostrarlo. Lo farò. Piacere di conoscerti. Vedo tutto. Il tuo tempo è finito. Perché hai fatto questo? Che cos'è questo? Aiuto. Ho tanta paura. Cadrò. No. È caduta e morta. È tutta colpa tua. L'hai incisa. No, è sopravvissuta. Sono vivo. Oh, quindi è colpa di Jumbo. No, ho cercato di baciarla. Ti bacerò. Per favore, no. Per favore, fermati. Fermati. È mia. Ok, quindi qualcuno rosso ha fatto questo. I bambini di Bambana non lo farebbero mai. Sono troppo dolci. Fratelli, adesso. Ok, quindi l'hai fatto tu. L'ho presa e l'ho gettata nel fuoco. Cosa? Opila è in questa borsa. La getterò nel fuoco. Quindi sei stato tu? Il caso è chiuso. Aspetta. Cosa? Ho trovato un video e non c'era Opila in questa borsa. Oh no, vediamo chi c'era dentro. Fiddles, non è possibile. Controlla la chiocciola Selene. No, non sono stata io. Eravamo fratelli. Penso che sia il momento. Perché questa è diversa? Sono così arrabbiate. Ed infine. Vieni qui. Quindi l'hai uccisa? No, erano i suoi fratelli. Non è possibile. Di nuovo. Aspetta. Dove va questo sangue? Qui. Chi è questo? La famiglia Mab Mab. Non l'abbiamo fatto noi. Ehm. Sei un sospettato. No, eravamo in Squid Game. Ma hai inciso Opila. No, eravamo in Squid Game. Andare. Skibi perché non vai? Non preoccuparti Opila, ci penso io. Come lo spiegherai? Era solo un gioco. Non è morta. Non c'è modo. Aspetta. Di nuovo. Cosa? Cosa è successo? Chi è questo? Ehi. Sei stato arrestato? Dimmi cosa hai fatto a questo posto. E dov'è Opila? Posto. Pensavo che non lo avresti mai visto. Ok ragazzi. Chi salta più lontano vince. Ti eliminerò Opila. Mai. Vai. Ho vinto. Perdente. Ma tu avevi un'auto migliore. Non è giusto. Verità. Opila vince. Cosa? Non può essere così. Ok. Ti abbiamo preso. Ora andrai in prigione. No. Ah. Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale. Testiamolo. Ho creato dei bambini bellissimi a... Mutiamoli. Robin no 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 man. Fatto. Non mi sento bene papà. Vieni qui papà. Ancora. No. Oddio. Ha funzionato. Il mio pennello è il migliore. E me aspetta. Ehi. Riportaci alla normalità. Oh. Orario della lezione. Bambini. Disegnatemi. Facile. Buono. Evviva. Il mio turno. Buono. Lascia che te lo disegni. Che cos'è questo? Cattivo. Aspetta. Mi dispiace. Ho troppo potere. Non disegnerò mai più niente. Popcat cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare. Fatto. È la tua fine popcat. Are you sure about that? What the hell? Oddio. Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri, come posso fare soldi? Guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari. Prima io. Ah, perdenti. Il mio turno. Posso provare. Ah, sì, ma perderai. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Sta volando. Aspetta, come? Facile. Questa è impossibile. Ho bisogno di una nuova macchina. Ah. Andiamo. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. L'ultimo. Oh mio Dio. What the hell? Oh mio Dio. No way. Ce l'ho fatta. Non posso credere a quello che è successo, ma ecco il tuo premio. Sono ricco. Sono ricco, ma ne ho bisogno di più. Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra. Oddio. È questa la mia macchina? Sono il primo... ...del salto. Il mio turno. Che bel salto. Tocca a me. Perdenti. Buon salto. Tempo per me. Noob. Arriverò alla mia Lambo. Salto intermedio. Ora è tempo per il bagno. Aspetta. È troppo lento. Lasciate che mi disegni una nuova. Fatto. Wow. Oh mio Dio. What the hell? Oddio. Quasi la fine. Congratulazioni. Hai vinto la terra. Ah, andiamo. La polizia. Lui sta imbrogliando. Catturatelo. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Devo disegnare. Disegnare di nuovo. Fatto. Ok, è ora di distruggerli. Wow, ha funzionato. Capo, cosa devo fare? Saltami addosso. Grazie, ora devo nascondermi perché ce ne sono altri. Oh no. Cosa dovrei disegnare dopo? Boom. Pokat, aiutami. Stanno distruggendo la mia fabbrica. Oddio. Disegnerò personaggi personalizzati. Non ti preoccupare. Fatto. Wow. Ora penserò a qualcosa di strano. Fratello, che bello. Sta qui. Prossimo. Ah, incredibile. Ultimi due. Oddio. Prossimo. Fatto. Wow. Ok, attacco. Grazie mille. Pokat. Nessun problema. Ma ora sei in arresto. Mi dispiace. Cosa? Si fermi. Si fermi lì. Incredibile. Sono in prigione. Disegnerò la fuga. Bello. Ume. Ume ciao. Sto valutando da ora. Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova. Lo farò io. Bello. Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi. Tutti i miei amici sono morti. Aiutami per favore. Disegniamo. Fatto. Evviva. Prossimo. Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire. Mi sta maltrattando. Per favore disegna un crucifisso. Non c'è da preoccuparsi. Grazie. Grazie. Tutto l'uomo. Il prossimo è Zolfius. Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco. Ok. Fammi provare. Fatto. Grazie. Voleva essere più grande della terra. Oh, sarà difficile. Ma ce la farò. Ok. Ce l'ho fatta. Bene. Ha rubato l'autobus con i bambini di Ramby Friends. È brutto. Quindi ciao ciao. Facile. Ok, il prossimo. È stato picchiato dai bulli e voleva denti e ossa nuove per spaventare la gente. disegniamo. Fatto. Wow, questo è così figo. Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito. I bambini restano qui per un momento. Bei bambini. Una buona cena. Aspetta, non mi sento così bene. Perché ci hai mangiato? Ehi, se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora. Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con tazzo. Smettila di inseguire le persone. Fratello. Il prossimo. Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo. Noi. Sai disegnare i personaggi? Sì, ho un'idea. Perfetto. Il prossimo. Fatto. Oh no, fa schifo. Ma lo amo. Aspetta a prendere il vestito. Grazie. Il prossimo. Fatto. Forse l'ultimo. Oh my god. Disgustoso. Che cosa hai detto? Il prossimo. Voleva valutare ogni jumpscare di ognuno da Garten di Bambam. Oggi valuterò tutti i vostri jumpscares. Prima. Hai. Ora tu. Buono. Prossimo. Ora tu. Ah, capito. Non fa paura. Il prossimo è lo squalo. Spaventoso. Ora scream Eugen. L'ultimo. Buono. Wow, è stato impressionante. Il prossimo morto. Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam. Mostrerò la tua faccia nella vita reale. No. E me sei metà cattivo e metà buono. Va è libero. Prossimo. Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle. Ehi, io farò una buona cena. Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando. Farò saltare in aria le loro case. Ah, buono. Ora tu. Sono troppo debole. Finalmente. L'ultimo. Non funziona. Oh no. È troppo forte. Sei sopravvissuto. È bello. Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro. Lo farò. Wow, grazie. Voleva una moglie e dei figli. Ok, ti disegnerò una moglie e dei figli. Oh my God. Siete dei bellissimi bambini. Ah, bello. Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger. Quindi li vuole indietro. Cibo piacevole. Torna indietro. Cuciniamoli. No, 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 no. Non sotto i miei occhi. Per me sei una persona perfetta. Ok, il prossimo. È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico. Non credo che le tue scorreggie siano così cattive. Sei sicuro? Sto per morire. Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo. Oh, cos'è questo? Lo mangerò. Buono. Oh, aspetta. Devo andare in bagno. Buono. È ora di lavarsi le mani. Che diavolo. Il prossimo. È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso. È ora di fare pipì. Ho bisogno di sapone per pulirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore. Lascia che lo disegni. Fatto. E per me fai solo schifo ma sei una brava persona. Prossimo. Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei. Per favore, baciami. Sei così intelligente che dovremmo stare insieme. Ok. Prossimo. Volevano avere dei figli ultra intelligenti. Ok, fammi disegnare. Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla. Wow, wow, wow. No, no, no. Smettila di inseguirmi. Devo disegnare. Ok, fatto. Ora. Qualcuno ha ucciso Bambalena. E anche qualcuno ha ucciso Nab Nab. Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino. Chi è l'assassino? Aspetta. Mettili giù. Prima Bambam, vedo i tuoi denti su di lei. Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore. Yeah, uh-huh. Hai il mio braccio. Oh mio Dio, mi dispiace. Mani in alto. Mani in alto. Sei arrestato. Quindi l'hai uccisa. Ho solo morso la sua mano. Ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione. Impossibile che sia in prigione. Ma aspetta. O no, abbiamo la stessa cella. Ah, finalmente posso vendicarmi. Mio Dio, quindi l'hai uccisa. Il caso è chiuso. No, aspetta. Ho ucciso un poliziotto per salvarla. Ah, sei chiuso qui dentro. No. Ehi, ehi, ehi. Mio Dio, mi hai salvato. Bacio. Mio Dio, quindi gli siete innamorati alla fine? Sì. Ok, passiamo al prossimo. Fata un uro. Stavo giocando con Bambalena e Nabnab. Oh mio Dio, è stato così cattivo. Ma poi si è vendicato su Dime e Bambalena. Spero che nessuno mi spaventi di colpo. Amico, fammi uscire. Ok, quindi Nabnab l'ha solo spaventata di colpo. Ma aspetta, cos'è questo? Il naso di Coach Piccol. No, mi stavano prendendo in giro. Dove sei? Ah, cos'è questo? Il mio naso. Lascia che lo tagli per te. No. No. Oh mio Dio, cosa è successo dopo? Mi sono vendicato su di loro. Ehi cane, mi puoi dare il tuo naso? Lasciate che lo faccia io per voi. Grazie. Ora di vendicarsi. Amo il mio nuovo naso. Ehi, è la tua fine. Ora è il turno di Bambalena. Ok, vedo Bambalena. Ehi, dammi il tuo naso. Ok. Grazie. Ehi, Bambalena. Muori. Ehi, 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 ehi. Brother, no, no, no. Ah. Quindi hai ucciso Nabnab e Bambalena. Non lo prometto. Impossibile. Figlio di Bamban, l'hai ucciso tu? Non sono stato io. Lo prometto. Ho invitato Bambalena al mio concerto. Ma Nabnab non piaceva l'idea. Ehi, Bambalena, ho fatto qualcosa per te. Cosa? Cosa sta pensando? Lei è la mia cotta. Ah. Quindi cosa è successo dopo? Mi sono vendicato. Ok, Nabnab, sei pronto per sentirmi cantare? Vai. Ah, tempo di riposarsi. Quindi l'hai ucciso. Caso chiuso. No. Impossibile. Chi lo ha fatto? Aspetta, c'è una siringa. Strumento del dottore. Penso che il rosso potrebbe ucciderlo. Non ero io. Cercavo di farli mutare. Ora di farti mutare. Mangia questo. Ah. No. No, no, no. Ah. Ora tocca a te. No, no. Ha funzionato, ah. E ora è il momento di unirvi. Mua, perfetto. Sapevi che avrebbe potuto ucciderli? Sì, ma non è successo. Mio Dio, l'umaca serina è il tuo muco. Li hai uccisi. NANI? No, in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale. Well, the Red Devilman didn't work out, so here we go. Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore. Cosa stava facendo? Stava schivando meme lol. Ok, ma dimmi cosa sai di Bambalena e Nabnab. Mi ha buttato in piscina. Mio Dio, ti ha buttato in piscina prima che foste mostri. Di nuovo. Aspetta. Ha dell'alfabeto. Hai ucciso Bambalena e Nabnab? Ero un peluche normale, ma lei sedeva sempre su di me. Tempo di sedersi. Un'ora dopo. Ho aggiunto delle spine su di me. Si pentirà di essersi seduta su di me. Tempo di sedersi. Due ore dopo. Ora aggiungerò dei cubi puzzolenti a A. Bambalena ceniamo insieme. Ok. Prendi posto. Sarà la cena migliore. Oh no, no, meh! Sto rompendo con te. Aspetta cosa? Cinque ore dopo. Ultimo scherzo. Aggiungerò della TNTAA. Ah, o voglio dormire. Ho avuto una brutta giornata. No, 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 no! Ah, aspetta. Agrer, è troppo. Hai distrutto la mia vita. Vieni qui. Cosa è successo dopo? Ti ha eliminato? Sì. Mi ha ucciso in cento modi diversi. Ti faceva male? Sì. Aspetta. Qualcosa sta dando i numeri. Amanda, l'hai fatto tu? Ho visto Bembalena e Nablab guidare una macchina e mi hanno investito. Tempo di guidare la mia nuova auto. Ferma, ferma. Ferma. Lei è uccisa? Ah, 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 ah. Lei è uccisa? No. Lei è sopravvissuta solo con una botta in testa. Capisco. Ah. Amanda, anche lei è morta. Aspetta, vedo un coltello. Coltello dello sceriffo. Ehi, tu l'hai fatto. Stavo solo togliendo le loro maschere. Sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt. Prima Bambalena. Amico. Altre maschere. Amico. Mio Dio. Altre maschere. Ehi. Torna qui. Amico. Cosa. Ok, prima la fata. Cosa? Justin. Pensavo avessi paura della fata. Ok, la famiglia di Zolfius. Wall-E. Oh, my God. Amanda. Ora il puzzolente Joel. Per favore no. Sono brutto. Ah, ah, ah. Cacca. Fiddles. Sono bello. Vediamo, ah, ah. Skipping. Yeah. Ok, dopo Nibbles. Oh, my God. Adam di Lenkibox. Amico impossibile. Ora per questo ragazzo del capitolo 4. Per favore, non fatelo. Ho dei figli e sono brutta dentro. Lo farò, ah. Flamingo. Wow, pazzesco. Prossimo Nab Nab. Sono la persona più brutta del pianeta. Non fatelo vedere. Non dirlo. Nessuno è brutto. Mio Dio. Così carina. Prossimo Jumbo. Oh, my God. M. Chi sei? Ok, prossimo. Luma Casseline. Please don't do it cause 1M average. Lo farò. Jenna. Ok, abbiamo controllato molti di loro. Ora questo ragazzo, dà un nuovo capitolo. Vediamo il tuo volto. Bello. Prossimo Bambam. Vediamo. No, per favore, no. Cosa? Rick. Ti amo. John Viola. Vediamo. No, per favore. Smettetela subito. Nonno di Squid Game. Prossimo è Squalo. No. Ah. Isho Speed. Prossimo, Pigster. Quattro. Kailus. Prossimo allenatore Pickles. Mister Beast. Wow. E ora tutti aspettavamo Nabnab e Bambalena. Mio Dio. Wow. Ok, quindi non li hai eliminati. Qualcuno ha sparato allo sceriffo. Ah, perché l'hai fatto? Hai ucciso Nabnab e Bambalena? Odiavo Nabnab perché mi entrava nell'occhio. Per favore esci dal mio occhio. E odiavo Bambalena perché mi rubava i bambini. Bambini, state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio. Ok. Tempo di rubare dei bambini. I miei bambini. Mio Dio. Quindi cosa è successo dopo? Così un giorno volevo dargli una lezione. Mi hai tradito, quindi ora ti insegneremo una lezione. Per favore no. Spavento. Aspetta, sono morti? Aspetta cosa? Sik, no. Aspetta, vedo qualcuno. Ehi, fermati qui. Ero innamorato di Bambalena. Sposerai Bambalena? Sì, Bambalena. Lo sposerai? Sì. Aspetta. No, lui l'ha rubata. Ora baciami per sposarmi per sempre. No, per favore no. Per favore no. Ma è... No, perché lo hai eliminato? Perché chiedi? Ti stavo salvando. Ma è Justin. Stavamo scherzando con te. No, mio fratello. Quindi hai ucciso il falso LabNab. Sei un sospetto. Ah, opia. Perché? Era Zulfius, non io. Hai inciso Bambalena? Facevo colazione con il ketchup. Il mio cibo. No. No. Li hai mangiati tutti? Ero sazio. Cosa? Sentito uno sparo. Cosa? Amico rosso pensavo fossi morto. Dimmi cosa hai fatto. Stavo cercando di uccidere Bambalena e NabNab e ho fatto una competizione per gli spaventi. Tempo di uccidere il giardino di Bamban. Siete tutti a metà partita. Facciamolo. Chi ha vinto allora? Nessuno. Quindi non sappiamo ancora chi l'ha fatto. Aspetta, cosa stai facendo? Mio Dio Pigster, quindi hai fatto tutto tu. Pensavo che avessi fermato il caso. Ero solo affamato. Ok, stai andando in prigione. Impossibile che sia stato Pigster. Ma ce l'abbiamo fatta. Evviva. Lei è nella mia casa. Impossibile. Mi dispiace. Volevo baciarti. Aspetta. Non sono Bambalena. Hai sbagliato persona. Hai sbagliato persona. Abbiamo bisogno di Bambalena. Cosa sta succedendo? È la mia casa. Devo andarci. Oddio. Cosa sta succedendo qui? Bambalena bevi questo. Ah. No, mai. Dammi quello. No, ora esploderò. Oddio. Cosa è successo qui? Perché tutti sono Bambalena? Questa persona ci ha cambiato e ora devi scoprire quale Bambalena è reale. Oh my God. Bambam, quale pensi sia la tua ragazza? Questo. Posso sentirlo. Non credo. Era Stinky Joyal. L'hai baciato. No, 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 man. Quindi abbiamo ancora dieci Bambalenas. Ora dobbiamo controllare le vostre voci. Prima Bambalena. E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente. Ok, non sospetto. Prossimo. Ciao. Dove ti stai nascondendo? Per favore. Fa male. Sono forte. Um, non suona esattamente come Bambalena. Ma va bene. Prossimo. Ascolta, se riesci a sentire quello che sto dicendo, fai un cenno a qualsiasi telecamera. Cosa? Voce maschile. Sei un sospetto. Prossimo. Quindi ci incontriamo di nuovo. Dove sono i miei figli? Prossimo. Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza. Sospetto. Prossimo. Mi ha portato in bagno. Questo era strano. Prossimo. Piacere di conoscerti. Um, penso che tu sia malato. Prossimo. Sei stato uno studente cattivo. Bene. Ultimi due. Cosa? Ok, questo è Opila. Ma l'ultimo. Ok, questo sembra normale quindi tu, stai uscendo. Avevo ragione. Sono rimaste solo nove bambalena. Quindi ora devo controllare i vostri spaventi. Numero uno. Ok, bene. Prossimo. Non male. Sembra reale. Ok, questa persona era sospetta prima. Attaccami. Dove pensi di andare? Wow, era come bambalenas. Non sei più un sospetto. Prossimo. Ahia, la mia testa. Era reale. Prossimo. Ora tu. Cosa era quello? Non è bambalena. Fai di nuovo. Il secondo era reale. Prossimo. La mia testa. Ma era uno spavento molto sospetto. Prossimo. Di nuovo. Oh fratello, perché hai lo spavento di Nab Nab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello. Sospetto. Prossimo. Unne. Spavento incredibile. Mi piace. Sei reale. Prossimo. Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles. Sospetto. Prossimo. Tu lo sai. Aia, perché lo spavento di Bambam? Oh, ho appena cliccato il pulsante sbagliato. Era ancora Bambam. Stai venendo eliminato. Ah, era Bambam. Ops. Ok, prossima categoria. Disegnati ora. Ok, fatto. Non sono bravo a disegnare. Facile. Non un bel disegno. Prossimo. Non il migliore, ma ok. Prossimo. Wow. Prossimo. Wow, buono. Prossimo. Brutto. Sei un sospetto. Prossimo. Um. Perché c'è un Stinger Flynn? Cosa? Um e nulla. Strano. Prossimo. Buono. Wow. Hai dipinto un modello 3D. E l'ultimo. Um. Scherifo. Che diavolo. Mi dispiace ma stai venendo eliminato. Ciao ciao. Ah, avevo ragione. Non ne restano molti. Prossimo. Devi disegnare la tua cotta. Facile. Mostrami. Oh, io bambam. Prossimo. Bene. Ok, prossimo. Cosa? Figo. Prossimo. Bambino ma bambam. Quindi ok. Prossimo. Bambam malvagio. Bene. Questa è la mia cotta. Aspetta. Cosa è questo? Um e... E tu? Looks kind of suspect. Ragazzi siete sospetti da ora. Ma ora? Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro. Oh! Oh my god! Non è il migliore. Prossimo. Oh my god! Quello blu. Bambalena era molto meglio. Prossimo. Quello rosso. Lasciami pensare. Meglio del precedente. Viola e arancione. Perché questo? Viola molto bene. Ma arancione. Questo è brutto. No, no, no. Ne restano tre. Facciamolo. Dai. Siete al sicuro ragazzi. Mi dispiace fratello ma sei falso. Per favore no. Stinger Flynn. Quindi ne restano solo sette. Ok. Quindi ora ho una domanda. Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato, dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate. Je ne suis pas dué pour des saints. Um, siamo andati a un appuntamento. Stavamo bevendo caffè. Per favore, lasciami in pace. Wow. Mi chiedo dove l'ha portata. Sembra reale. Ok, quindi ora tu. Lo stesso. Data. Ok. Lasciami pensare. Mi ha portato per l'operazione e voleva cambiarmi. Ah, è ora di cambiarti. Ah, perfetto. Un strano. Ok, tu. Mi ha portato a Umme. In prigione. Cosa? Non credo sia corretto. Ok, tu. Data. Prossimo. Mi ha portato fuori per un appuntamento. Ok, tu. Mi ha portato in bagno. Cosa? Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno. Fratello, sei un sospetto. E l'ultimo. Sì. Ok, non riesco ancora a scegliere chi uccidere. Quindi ora, Bambalena era molto veloce. Benvenuti al torneo finale. Siete pronti? Sì, sì. Wow, è così veloce. Prossimo. E prossimo e prossimo. Ok, vediamo chi ha vinto. Bravo, sei stato veloce. E aspetta, perché ne manca uno? Mio Dio. Mi dispiace ma devo ucciderti. Ciao. Lumaca Selene. Bambalena era intelligente. Quindi ora risolvi questo quesito. Vieni. Una mela più una mela equivale a? Due mele. Hai ragione. Bene. Prossimo. Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro. Hai ragione. Sei legittimo. Prossimo. Aereo meno carburante per auto equivale a boom. Wow, sei così intelligente. Prossimo. È così facile. È zuppa di pomodoro. No. Cosa? Assassino più coltello equivale a morto. Non sei bambalena. Ciao. Zolfius. Non bene ma abbiamo solo cinque bambalene rimaste. Ok. Quindi disegnati e poi diventa quello. Tu per primo. Fatto. Wow. Sembra bambalena. Ok. Quindi ora per il prossimo. Facile fratello. Aspetta. Cosa è questo? Sei un sospetto. Ok. Dopo un sospetto il prossimo. Andiamo. Bambalena più nabnab. Molto strano. Ma ok. Ora tu. Cosa è questo? Zolfius più bambalena. Prossimo. Facciamolo. Cosa è questo? Fratello. Stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok. Quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata? Fratello. Ok. Quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio Dio. Questo è sospetto. Hai il corpo di nabnab. Quindi il prossimo. Questo è falso. Era Coach Peacles. Mi dispiace. Ok. Quindi abbiamo solo 4 bambalene. Ok. Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così. Ok. Questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono 2 persone. Ok. Ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? 2 persone. Ok. Questo è sospetto. 2 persone sono in pigster. Lei ha ucciso Bambam perché era con nabnablena. Ok. Bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam. È corretto. Lei era innamorata di pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un pigster. Avevo ragione A. Ne restano solo 3. Lei è stata morsa da Bambam e poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matemati. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. 2 più 2. 4. Mio Dio. Sono così intelligente. Sei intelligente come Bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio. È la cosa di lumaca serine. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena Bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa. Mio Dio. È come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei era la cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Tu scrivi questo. Non ho scritto. Non ho scritto. Non ho fatto questo. Sì, è vero. Tutti amavano Bambalena. Aveva dei bambini con Bambam. Mostrameli. Wow. Sono dolci. È stata colpita da Jammo Josh. Tutte le cose qui sono corrette. Ma ora passiamo alla prossima categoria. Ora devi costruire la tua statua. Il migliore equivale a vincere. Ti sto chiudendo e aspettando i risultati. Cinque ore dopo. Ok. Vediamo i risultati. Um. Non male. Prossimo. Cosa è questo? Non è Bambalena. Mi dispiace. Sospetto. E l'ultimo. Wow wow wow. Perfetto. Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione. Zambo Josh. Mio Dio. Ok. Quindi sono due bambalene rimaste. Vediamo cosa hai fatto. Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco. Sembrava un ragno con un sacco di denti. È anche il ruolo di Nub Nub. Fratello. Era un maschio. Aspetta. Bambalena è una femmina. Non un maschio. Ok. Sai cosa? Sei falso. Impossibile. Nub Nub. Ok. Quindi questa è la vera bambalena. Iai. Sì. Finalmente mi hai trovato. Dal Jumbo Josh più piccolo a quello più grande e al Jumbo più grande del pianeta. Devo salire su queste montagne russe. Controlla la tua altezza. Ok. Nessun problema. Sei troppo piccolo. Vai al posto per bambini. Sarai il mio nuovo amico. Cosa? E' il mio turno. Beh salì. Ho un'idea. Scaverò la buca e ci entrerò. Sì. Facile. E' stato facilissimo. Ehm. Pensavi di potercela fare? Jump scare. Ehm. Ehm. Non posso arrendermi. Non posso arrendermi. Aspetta. Posso saltare attraverso. Andiamo. Ce l'ho fatta. E sono diventato più alto. Il prossimo. Wow. E poi. Ehi. Non lasciarmi. Devo saltare. Sì. E sì. Wow. E' più alto. Ehi fratello. Cosa? Come ci sei arrivato? Mi sono intrufolato. Ti spezzerò tutte le ossa. Fermati. Le mie ossa. Papà. Mi ha toccato. Non mi importa. Lui è più alto e migliore. Grazie. Ma ora la persona che salterà sopra quegli edifici otterrà il male ed è facile. Facile. Wow. Sei così alto. Il mio turno. Difficile. Il prossimo tentativo. Sì. Wow. Questo è difficile. Ah. Sono un professionista. Figlio. Sono fiero di te. Cosa? Salto. Yes. 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 No. 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 Perdente. Vero. Togliamolo di mezzo. No. 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 Il giorno dopo. Sono così cattivo che papà mi ha cacciato dalla famiglia. Fermati. Ragazzi. E' il momento dell'attività all'aperto. I bambini saltano attraverso quegli animali. Perdente. Perdente. Tutti mi maltrattano sempre. Devo smetterla. Bello. Yo. Perdente. Come è possibile? Il potere della mente. Oh my God. Sì. E l'ultimo. What is that? Ancora no. Oh my God. E adesso? Non può essere così. Chiamo mio padre. Maison dovrebbe vincere. Ha barato. Ok. Controlliamo. Ok. La persona che salta sul livello più basso perde. Oh my God. Ok. Sono il primo. Ottimo salto. Penso che Jumbo non mi batterà. È il mio turno. No. Avrò il miglior salto di tutti voi. No. Abbastanza buono. Grande salto. Ok. Il mio turno è stressato. Ma posso vincere? Wow. Ce l'ho fatta e sono ancora più alto. Wow ce l'ho fatta e sono ancora più alto. Ok. Sei davvero bravo. Congratulazioni. Sì. È vero. Eri l'uomo più alto del mondo. Grazie. Un me. Cosa? Non può essere così. Un me. Un ciao. Distruggi le sue ossa. Distruggi le sue ossa. Mi ha rotto tutte le ossa e sono in prigione e lui ora è il più alto. Tu sei la persona più alta. Grazie. Devo uscire. Torta. Mangiamo. Wow. Era con la chiave. Corri. Corri. Ora devo saltare. Saltare. Ok. Questo è difficile. Holy Jesus. Papà aiutaci. Sono così alto. Bello. Hai il vincitore. Nel frattempo. Questa è una gara per la persona più alta del mondo. Sono il primo. Bravo. Buono. Non abbastanza. Mi fanno male le ossa. È il mio massimo. Ma sono ancora il migliore. Aspetta. Aspettate il mio tempo per salire. No. Non puoi andare più in alto. Io posso A. L bozzo. Non può essere così. Farò il furbo. Cosa? Hai bevuto una porzione illegale. E adesso? Opila Verda ha vinto. No. Aspetta. Sto sognando o sta diventando più grande? Sono lontano. Vero? L'operazione è finita in sicurezza. Jumbo è la persona più piccola del mondo. Non può essere così. Sono scappato via. Ora devo tornare alla mia altezza. Veloce. Salto. Sì. Wow mano. Wow è bello. Opila Verda mi ha detto di colpire te e lo farò. Il prossimo. Fermati. Mai. Mai. Questo è difficile. Wow ultra salto. Ora. Ora cosa? Sono più alto. Umme. Facile. Salto. Bello. Il prossimo salto. Oh my god. Wow. Aspetta. Ho sentito che qualcuno... Prenditelo. Oh. Oh my god. Salto. Oh my god. Oh my god. L'ha fatto. Oh no. OMG. Veloce. Devo saltare. Mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il prossimo salto. il giorno successivo. Ma se non è così? Wow. Il prossimo. Difficile. Ma ce l'ho fatta. E l'ultimo salto. Oh my god. Salto. Mi è riuscito. Opila. Mettiamo fine alla nostra guerra con la persona della compressione di dimensioni. Chi vince può tagliare le gambe dell'altra persona. Ok noob. Sono il primo. Bene. Ah. Oh my god. Questo è il mio limite. È il mio turno. È il mio turno. Oh no. È il mio massimo. Devo distruggerlo in qualche modo. Sono svenuto. Aspetta. Opila. Un uccello. Opila verde. È il nostro dio. Opila verde. È il nostro dio. Devo distruggerla. Out. Ma prima ho bisogno di aiuto. Poliziotto Belly. Puoi aiutarmi? Opila verde. È troppo potente. Sì. Questi sono i criminali più alti del mondo. Dagli un punteggio per farli aiutare te. Ok. Prima cosa. Ha le gambe lunghe perché è un robot. Mostrami. OMG. Qualcuno ha fatto 100 copie di lei per distruggere il mondo. Ma lei ha distrutto quelle copie con le sue grandi gambe. Tutti i miei Megan sono pronti. I am a robot. Aspetta. Chi è questo? Fermate subito le vostre azioni. Fermati. 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 Non è stato male. Ballava danza lirica e per sbaglio distruggeva gli edifici. La mia casa. È un terremoto. Ti do un voto negativo. Scusa. No. Prossimo. Saltiamolo. Sì. 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 È la persona più grande del mondo. Questa è una gara per i mangiatori più veloci del mondo. Pronto? Via. Che cosa? Fatto. È troppo grande. Bene. Ti ho sempre apprezzato bro. Ha fatto una collaborazione con Mercoledì e tutti l'hanno amata. Era divertente. Ti do un buon voto. È dalla Turchia e la Turchia ha problemi con i terremoti. Quindi vuole che le persone aiutino donando. Unisciti alla nostra squadra Skibi. Prossimo. Sei così grande. Era così grande che la sua testa è passata attraverso il tetto. Voglio essere più grande. Sua moglie stava partorendo e i bambini sono usciti grandi. Penso che sia arrivato il momento. Ohio Bert. Ho bisogno di te nella mia squadra. Vai al buono. Stava combattendo con King Kong senza sapere che lui era il suo avversario. Nice. Mi chiedo chi sia il mio avversario. Ah ti distruggerò. Wow hai perso contro King Kong. Io ero sempre nella squadra di Godzilla. Aveva dei bambini grandi come lei. Ha combattuto con Siren Head nella vita reale in Cina. Bro what are you talking about? Cosa? Bene, l'hai battuto. Prossimo. Era super grande ma Superman lo ha portato in aria e lo ha distrutto. Questa è stata la scena migliore che abbia mai visto. Bene, prossimo. I suoi figli sembravano di Ohio. Mostrami i tuoi figli. Ok, sono dell'ohaio. Morirà all'età di 90 anni ma sapeva che era il suo momento e andrà in paradiso. Oh va benissimo. Sheriff e Lumaca. Voleva essere più grande dei suoi amici Jumbo Josh e Fiddle. Sono grandi? Sì. Wow, sono davvero grandi. Era piccolo prima ma è diventato grande a causa della pozione. Sono così piccolo. Che cos'è questo? Eri una buona persona. Unisciti alla nostra squadra. Ora Ziphyr. Era una lumaca piccola che una ragazza ha trovato sull'albero ma ogni giorno diventava più grande. Wow bella lumaca voglio adottarlo. Nanna, nanna, nanna. Mi dispiace ma ti lascio bambino. Ti ha abbandonato perché eri troppo grande. È così triste. Faceva jumpscare alle persone per liberare la sua rabbia. Mostrami il tuo jumpscare. Solo due persone rimaste. Ma perché è così piccolo? Era più piccolo di un atomo. Vediamo. Wow è così piccolo. Poteva trasformare la sua dimensione in una dimensione più grande di quella di Godzilla. Mostrami. OMG. Quando si trasformava in ultra piccolo. Ok ho bisogno di te nel mio team. L'ultimo. Era super grande perché aveva ucciso tutti nella leggenda dell'alfabeto. Era così grande che tutti nel mondo potevano vederlo. Nooo God. Era il migliore nel risolvere problemi matemati. Nice. Ok amico sei nel nostro team. Vai al posto giusto. Ok il mio team è pronto. Dai tutti i tuoi poteri. Sto diventando troppo grande. Wow. Facciamo un'ultima battaglia. Ok inutile. Salto. Oh no. Ah e adesso cosa? Oh no. Jambo Josh è stato ucciso con un cecchino. E non preoccuparti. Troverò chi l'ha fatto. Prima il cattivo dal film. Ho cercato di spararli ma qualcuno lo ha salvato. Oddio ma il prossimo proiettile è passato attraverso di lui. Sì ma è sopravvissuto. Oddio quindi voleva ucciderti dopo che l'hai sparato. Sì quindi ho usato carri armati e eserciti. Cosa è successo dopo? Ha distrutto i nostri carri armati. Non mi distruggerai mai io e il mio padrone. Classico Jambo Josh W. Non sei stato tu. Ma Jambo Josh è stato ucciso. E vedo le piume di Shika e Freddy. Stavamo cercando di vendergli del cioccolato ma era strano. E vuoi comprare un po'? Un po' di cioccolato? CIOCOLATO? 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 Ne prenderò uno. Grazie Poteva eliminarti Non tu lui Oddio Bambam li hai uccisi Sto mangiando personaggi di giochi popolari Ma non ho mai mangiato giubbo Ho così tanta fame Lasciami mangiare Carne molto cattiva O vedo qualcuno di buono Ancora cattiva carne Fratello Oh aspetta Era mio amore Adesso l'umaca Ok nessuno di loro era buono Ma penso che questo ragazzo Possa avere un sapore migliore Cosa stai facendo? Oh mi dispiace Ok Quindi ha quasi ucciso te fratello Jumbo era brutale Oh mi aspetta Chi sei tu? Ero nella casa di Jumbo Ed era spaventato di me Perché questa cosa è nella mia casa? Aspetta ora è nella mia lavanderia Devo andarci Aspetta la vedo È realmente qui Oh no Ehi tu Nindy l'ha inciso Il caso è chiuso No è sopravvissuto Non puoi spaventarmi in casa mia Fratello Quindi chi l'ha fatto? Ho visto Tamataki accanto a lui Tu L'hai inciso No Mi ha eliminato Vieni qui O hai paura di me NONI È troppo Mi hai sputato addosso Jumbo è davvero brutale HMM Non ho ancora alcuna prova Ehi PopCut Controlla meglio Bambam Oddio Oh oh non puoi scappare ora Per favore non uccidermi Per favore no Grazie Paffi Bambam sei un sospetto ora Ok volevo spaventarli Bello Ti ucciderò Ti hanno colpito con l'auto Fratello Non sono tuo fratello Oddio Fluffy Mi hai salvato Grazie Aspetta ma chi è questo? Cosa stai facendo accanto a Jumbo Josh? Mi ha adottato quando ero giovane E mi odiava Nanana Umme Chi è questo? Che dolce uccello Ti adotterò Umme Omg impossibile Sai cosa? Sei troppo dolce per arrabbiarti con te Ehi Opila aspetta Fratello è un maledetto tsunami No No God Please no Ma lo pulirò Fatto Nu è troppo Esci dalla mia casa ora Dieci anni dopo Aspetta qualcuno sta suonando Sei tu uccello? Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per un anno È morto No Lo prometto Aspetta il mio schermo sta dicendo BB è qui Ciao Ho hackerato il capitolo 4 del giardino di Bamban Cosa? Wow il nuovo capitolo sarà finalmente lit Ma hai ucciso Opila e Jumbo No non l'ho fatto Perché dovrei? Amanda C'è solo un hacker in questo mondo Io Oddio hai ucciso PB Ma hai ucciso Jumbo No Mai Stavo solo prendendo in giro lui Ehi Jumbo lascia che ti disegni dei muscoli Ok Ha funzionato Ora cambiamo il tuo volto Cosa? Facciamone uno nuovo Ora aggiungiamo delle gambe divertenti Robert no 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 Per favore fermati Ok Ho finito? Ciao È stato brutale ma ho visto che è sopravvissuto Oh no Oddio chi le sta sparando? No No Ferma L'hai uccisa quindi forse hai ucciso anche Jumbo No stavo valutando i jumpscares dei personaggi del giardino di Bamban Prima questa cosa Prossimo uno pallone da basket Ok prossimo i figli di Opila Tu vai al capitolo 3 per me Perché sei dolce Perché sei dolce Prossimo canguri Prossimo Bene Prossimo fiddles con i pantaloni aaa Ora prossimo nab nablena e nab nab Buon jumpscare Quindi ora meglio Ok prossimo bambalena Mostrami qualcosa Prossimo uccello Opila Ok tempo per Bamban Bamban Quindi ora robot Bamban Quindi il prossimo è il mio preferito ragazzo dal naso lungo Ok quindi prossimo abbiamo la lumaca Seline Mi piacciono i jumpscares così Ma ora tempo per Stinky Joel Ora è il momento per Long Joe Bacio E Nibbler Kanguro fa Tauru dall'oaglio Ok quindi prossimo pigster Questo ragazzo Ok andiamo avanti Ne voglio uno tuo Fa male Di notte Ehi tu Cosa? Il tuo jumpscare mi ha fatto esplodere quindi ora è il momento della vendetta L'hai inciso Il caso è chiuso No aspetta non l'ha fatto Cosa? Ha sopravvissuto a questo jumpscare e poi mi ha bullizzato Questo è così cattivo Spero tu sia sopravvissuto Sì Quindi sono qui Oddio no way Qualcuno ne ha fatto un pancake Ho sentito dire pancakes Perché mi hai spaventato? Hai spaventato anche Jambo? Sì Aspetta cosa? Eravamo su uno ship Dai vai più veloce Ok ok Sono bloccato Penso che sia scivolato Oh mi dispiace Aspetta È morto Non mi sento bene No ha sopravvissuto al 100% Oh my god Mr. Beast Impossibile Sono un grande fan Grazie Ma hai ucciso Jambo L'ho appena spaventato con un poster Che bel poster Amo Mr. Beast Ho un infarto Aiutami Ho bisogno di un nuovo cuore Oh mio dio cosa ho fatto Non preoccuparti ti darò il mio cuore Grazie ma Mr. Beast cosa ti succede? Sto morendo Sei un eroe Grazie ma penso che lo sceriffo sia sospetto Ehi Firma Stavo solo mostrando i loro veri volti Ah ora è il momento di vedere i vostri volti Bambalena No Per favore no Sì per favore sì È un ragazzo Fratello Prossimo uccello opila No per favore Cosa? Tipo sospetto Ok è strano Voglio vedere la faccia di Jambo ma ora Silent Steve OMG Oh mio dio Gigachad dai video di Mr. Beast È me che mi hai preso Ok pigster ora What? No John Pork Hai hackerato Cartoon Network Un influencer di nome John Pork è stato trovato morto sulle rive del fiume Colorado I primi soccorritori sono arrivati sul posto questa mattina dopo diverse testimonianze oculari Che diavolo Ok prossima lumaca Selene Cricraft Non calvo Prossimo Nabnod Guarda i video di Mr. Beast Prossimo uccello opila Cosa? George Not Found Fiddles Ciano Per favore non farlo Lo farò Mi dispiace Mr. Beast Prossimo Stinger Ha bel faccia fratello Ok prossimo è mio fratello sceriffo Flamingo Andiamo Prossimo Noddles Dababy andiamo E l'ultimo Se lo farai ti spaventerò Il mio preferito Ah mai Attacco No Non può essere così Umme L'hai inciso No Lo prometto Ehi torna qui Perché hai fatto questo? Tutti sceglievano i giocattoli del giardino di Bambane Nessuno sceglieva me quindi ho preso vendetta Figlio Scegli solo quattro Ok facile Brutto fratello Li prendo io Ok prendiamoli Non può essere così No I miei giocattoli Il caso è chiuso Ho visto che Jumbo era morto No era solo un giocattolo HMM Quindi chi potrebbe essere? Aspetta Elefanti Guarda Ho un bambino Non potevo eliminarlo Aspetta Hai dei bambini? Sì Oddio così dolce Nucchi li ha storditi Lumaca No Non l'ho ucciso Stava solo schivando i miei attacchi Bene l'uomo diavolo rosso non ha funzionato quindi eccoci qui Sospetto Molto sospetto Aspetta chi è questo? Ti assicuro che non l'ho ucciso Stavamo solo lottando per una ragazza Pesche Ti amo OMG è così bello Lei è la mia ragazza Ah vieni da me Il troppo Ti abbiamo preso Non combattere mai per le ragazze Non è Sigma Non l'ho ucciso Te lo prometto Impossibile Chi l'ha fatto? Aspetta Chi è questo? Vieni qui Ehi Cosa? Indovina chi è reale ora Oddio Ok Mostrami i tuoi spaventi ragazzi Prima Non fa paura Ok successivo Spaventoso fratello Prossimo Prossimo Bello E l'ultimo Spaventoso ma sei falso Wow è una bambalena Quindi ora dite qualcosa ragazzi Piacere di conoscerti vedo tutto sento tutto Suoni come Zolfius Prossimo Siento lo siento Cosa hai detto? Va bene non importa Prossimo Grazie a Dio Sono così felice che tu sia qui Pensavo che fosse la fine Mi guardavo intorno e sono entrato nella stanza della sicurezza Non è la voce di Zolfius Ok l'ultimo Dove ti nascondi? Per favore Fa male Ehi quest'ultimo sembra falso Oddio Numaka seline Sono così vicino all'originale Ne restano tre Ho sentito dire che Zolfius era forte quindi colpisci questi muri e vediamo Dai Ok il prossimo giallo Era più forte Ok il prossimo Il migliore di tutti Quindi questo è falso Nab Nab Ok quindi ne restano due Quindi sto rischiando e uccidendo l'ultimo Oh pia Avevo ragione Quindi perché eri qui? Odio Garten di Bambane e ho fatto jumpscare fight Bambam versus mostri più spaventosi È tempo di fare la battaglia finale Sei pronto? Vai Sì personaggi vinto Quindi hai ucciso Jumbo? Sì mi dispiace Andrai in prigione Ok ce l'abbiamo Ho visto tutte le vostre vere facce E ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò Aspetta cosa? Scappiamo Non posso scappare Mi nasconderò dentro Qui Wow bel posto Vi vedo No Oddio ho sentito qualcuno morire Lei l'ha ucciso Trovarli è troppo difficile Devo accendere i raggi X Vedo qualcuno lì Salta su Ok il prossimo è qui Lei è lì Aspetta cosa è questo? A stella Dove? Corri Ciao ciao maiale Schierare un nuovo mostro Ok devo trovare il prossimo posto Aspetta Questo è il nuovo cercatore Nu Qui Pensavo che ci fosse qualcuno qui Ma ti vedo No Penso che se ne sia andato Velocemente Wow Perfetto Ti vedo Penso di sapere dove si trova Nu dove devo andare Corri Facile Vieni un nuovo mostro Oh no nuovo mostro Corri Qui Qui Ome questa stanza non sembra sicura Oh no non so dove scappare Wow dove sono Oh no è la mia fine Devo saltare È l'unica opzione A A è morto Non ancora A Nel frattempo Sono tornato Ed è ora di imbrogliare a nascondino Drone Che cos'è questo Ti ho preso Oh no sta barando Non è giusto Aspetta È tempo di scivolare Aspetta no Dove dovrei nascondermi Qui Ok Velocemente Ora via Finalmente Qui siamo al sicuro per ora Oh grazie bambalena Hai anche una piscina qui Non sembra normale Oh my god Vero ma aspetta Cosa Guardate dietro di voi Di cosa stai parlando Oh no Stinger Stinger Vieni qui Oh no Nascondersi velocemente Forse qui Ok Devo trovare un nascondiglio Mi chiedo se c'è qualcuno qui Oh no Qui Dove No 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 Oh cibo Mi sento così bene Mi vedrà Sento l'odore di qualcuno Oh no Scappo Torna Così vicino Ragazzo Resterò qui Devo usare il bambam volante Cattura qualcuno Ok Non c'è modo Come mi hai trovato? Oh no Velocemente Pozione Non c'è modo Dove è andato? Non lo saprai mai Ah facile Me ne vado da qui Veloce Ho bisogno di un uovo nascondiglio Aspetta qui Wow Oh my god Ehi Cosa ci fai qui? O me nascondersi Attacca No Non c'è modo Correre Cosa hai fatto? No Torna poca Correre Pulsante Wow Questo è etico So dove è andato Mi servono rinforzi Siamo qui Prendilo Non stanno arrivando Devo uscire Oh La prossima pozione Sono fortunato Bego Bello Dove è andato? Oh Lo vedo È piccolo Scappo via Facile Oro wow Nel frattempo Sento che c'è qualcuno qui Aspetta Oh no Mi ha trovato Vieni qua No Mi dispiace maiale Ma è la tua fine No Wow Ho trovato questo posto illuminato Il cercatore è qui Devo stare attento Popcat Spara Ok Bravo Popcat Oh no Qui Wow Il miglior nascondiglio Di tutti i tempi Dove sono E che è questo? Dottore Che sta arrivando Come? Dove è andato? Un giorno dopo Ok Sono rimaste Solo 5 persone Da mangiare Schierare Due mostri Credo che questo maiale Sia troppo lento Per prendermi Ume aspetta Nu Nascondersi velocemente Evviva Penso che questo maiale Sia troppo lento Per prendermi Aspetta Jumbo Nab 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 Sono laggiù Stanno arrivando Nasconditi Ci sono solo alcuni polli Co 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 Non siamo sus Metti mi piace E iscriviti per avere L'uovo d'oro Accanto al tuo letto domani Era così vicino Un ora dopo Questo posto è orribile Ume aspetta Siamo nuovi cercatori E vi prenderemo Fratello e sorella Lo attaccate Sposto Ume Pensa che non lo troveremo Oh no Cercherò di nascondermi Nel frigorifero Adesso Aspetta cosa c'è dentro Pozione Cosa Devo berla rapidamente Ume Ti vediamo Noi ti vediamo Devo diventare più piccolo Sto uscendo Oh no Veloce Morirò qui Non c'è posto Per nascondersi Ume cosa Torna No Devo scappare Wow Un nuovo posto Vedo pigster Prendetelo ora No Scappo Umme sono dentro Di lui Fratello L'hai mangiato Oh mi dispiace Tanto Usciamo da qui Aspetta Sono ancora Dentro di lui L'hai preso Sì Sto uscendo Da qui Umme Aspetta come Umme Scappo Qui È scomparso Ok ci servono altri mostri I bambini entrati Ora prendeteli No Stanno arrivando Mi nasconderò Qui Bello So che è lì Lui è Mi veloce Ciao Ehi torna indietro Siamo così grassi Ok ce l'ho fatta Sono in classe con Bambalena Bambalena Pensavo fossi morto Oh non importa Lei è morta Ho piglia ciao Nasconditi Popcat Oddio No No è morta Pensi che non sappia dove sei È la tua fine So dove sei Dove è andato? 20 secondi prima Devo uscire da qui Oh Wow Oh no Ho sentito che Stinger è morto Penso che nessuno mi troverà Ti vedo No per favore Qui Umme Vieni qui Sì mamma prendilo Lasciami in pace Lei è un perdente in piedi Quindi siamo vivi solo io e Giambo Solo vivo ma aiuto Qui Wow Sono troppo grasso Lo farò per te mamma Oh no Sta entrando Wow Sono al sicuro qui Non per molto Ma qui di sicuro Non c'è modo Ok Giambo è morto Quindi ora devo sopravvivere e vincerò Aspetta Non c'è modo Quale scivolo scegliere? Pigster Sono nello scivolo Oh no Chi è questo? Torna Sto scegliendo questo Oh no È la mia fine No fratello Siamo qui per aiutarti Oddio Non ab naps Non c'è modo Il vecchio Garden of Van Ben È medio e cattivo Abbiamo bisogno di qualcosa di meglio Come loro Oh my god E ho idea di come farlo Ho bisogno di cambiare quei bambini No no Venite con me Ho dei dolci gatti nei miei scantinati Evviva mi amo i gatti Ora entrate in questo barile Qui Ok Entrate Non ho scelta Devo scegliere tra queste opzioni Rosa Due occhi o quattro occhi Quattro Fratello Grass o magra Grass Bello Ora sono grassa Mani di maiale o mani di scimmia Di maiale Ho le braccia di maiale Bocca grande o senza bocca Grande Fratello Nove denti o no Nove Naso di maiale Benissimo Essere uno chef Io sono meglio Gambe corte Essere spaventoso Wow sono un piccolo porcellino Ok il mio turno Colore ciano Essere gigante o piccolo Gigante Essere assassino o essere amichevole Assassino Faccia sorridente Essere ultra spaventoso o ultra carino Carino O spaventoso Nu Sono brutto Andiamo Essere viola o trasparente Trasparente Forse viola Bello Lingua di serpente o senza lingua Di serpente Prossimo Molti denti o vampiro Vampiro Il jumpscare più spaventoso o quello più carino Il più spaventoso Testa di cobra o boa Cobra Due occhi grandi o nessun occhio Due Avere veleno o saliva Veleno Oh wow Alto o basso Alto Ah sono figa L'ultimo è assassino Ah sono pronto Fratello Fa schifo qui Verde Occhi strabici o normali Strani Odore puzzolente o odore di fiori Puzzolente Oh my god Fratello Puzzo Senza denti o con molti denti No Ho un aspetto brutto Punte sulla schiena o capelli sulla schiena Capelli Fratello Borsa della spesa o sacchetto della spazzatura Ovviamente della spazzatura Sono così puzzolente Jump scud Sono brutto Io sono il prossimo Faccia da agguato o faccia da bellezza Agguato Fratello Essere gigante o piccolo Gigante Corpo nero Wow Collo lungo o corto Corto Essere assassino o amichevole Assassino Testa a ruota o testa a cubo Ruota Ultima scelta Essere ultra spaventoso Sono pronto Ok il prossimo Cosa dovrei scegliere tra marrone e rosso Marrone Bello Avere una stella o non averla Averla Bene Grande sorriso o grande tristezza Che cosa addirittura significa la grande tristezza? Sorriso Fratello Un sacco di denti affilati o un sacco di occhi Denti Bello Bello Capello a cilindro Bello Sceriffo Grande pancia Ultimo Gambe lunghe Wow Sono l'ultimo Grasso o magro? Preferisco essere magro Viola Due occhi o dieci occhi Due Bello Essere felice o triste Felice Gambe strane o normali Strane Essere cattivo OMG Wow Sono perfetto Wow Famiglia Siete pronti? Aspettare Sei stato arrestato per aver mangiato dei bambini No Nanana giorno normale nella polizia dell'Ohio Popcat devi controllarli Sì Oh mio dio Vediamo Il primo è Pigster Peppa e George si sono fusi ecco come è stata creata Oh bello Abbiamo Peppa e George qui Entrare? N.O No Oh mio dio così grande Non è colpa tua Era più grande di Jambo Josh Ah sono più alto di te Non dire così E ora cosa? Lasciami in pace Mai per le parole che hai detto Il giocatore pensava che Pig volesse ucciderlo ma lei si sentiva innamorata di lui Oh no Vuoi uccidermi? Per favore Non dire che lo vuoi fare Per favore No mai Ti amo Anch'io ti amo Aveva un jumpscare schifoso Fammi vedere È stato davvero disgustoso e cattivo Mangiava i bambini dell'uccia all'opila Ecco perché era diventata grassa È ora di mangiare qualche pollo Bene Cattivo Hai mangiato quelle dolci galline Quando le si dai peluche di Peppa Pig smette di inseguirti Wow Pigster è così potente Attacco Oddio Andiamo Ha litigato con il gatto con gli stivali perché odia i gatti Odio i gatti Anch'io ti odio Maiale per me è brutto che tu abbia ucciso il dolce gatto Yo È arrivata al gioco ufficiale del maialino e ha mangiato il maialino Ehi pigi dove sei? Nessuno ha più paura di te Sei un vecchio gioco dai video di Creakcraft Cosa hai detto? Mi dispiace ma sei fuori Era piccolo ma il dottore l'ha rubato alla mamma e lo ha trasformato in grande Pensavi che ti sentissi? A seta Chi sta chiamando? Fratello Lascia che ti cambi Entra dentro Controlliamo i risultati Non è colpa tua Quindi per me è una buona azione Era super amichevole ma i giocatori gli sparavano proiettili dritti all'occhio Fammi spararlo Sono amichevole Smettila Sei stato trattato così male È triste È uscito dalla trappola e ha cominciato a distruggere Brookhaven Non uscirà mai Come? Si è innamorato della ragazza di Big Fiddles ma il dottore l'ha uccisa perché lo stava distraendo Amore Sì Mai Nu Ora sarete più concentrati sui jumpscares Ha spaventato il mondo intero e ha distrutto la terra con questo È ora di distruggere il mondo Per me sei una persona cattiva Il prossimo Fratello Sei brutto Era una squadra silenziosa a scuola Il mio nome è Silent Steve e sono Emo È stato morso dal verme viola Smettetela di fare bullismo con me Per favore Ah no bemo Oh sono così cattivo in tutto Ferme Cosa? Ti sei vendicato su di loro quindi non è male Hai iniziato a trasformarsi in Silent Stave e a spaventare tutti i bulli Ci sono troppi bulli devo aggiornarmi Forza sì Facile Snake eri davvero un bravo ragazzo Vieni qui Il prossimo sei tu Sì sono io Prima di trasformarsi in mostro stava cercando di risolvere l'omicidio di Skibididop Oh my god Chi ha ucciso Skibi? Questo è il mistero che risolverò L'assassino ha ucciso tutte le persone che amava perché voleva che smettesse di imbagare Uno di voi ha ucciso Skibi Aspettate Aspettate Chi ha fatto questo? Se hai visto chi ha fatto questo metti mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il prossimo giorno Ha trovato l'assassino ed entrambi sono caduti in piscina tossica e mutati Torna indietro ora Mai Ti imprigionerò Sei un buon sceriffo per me Vieni Tutti loro sono stati valutati È tempo per il mio aggiornamento Wow sono Pipster LVL1 Valutiamo di più Perché ogni valutazione è uguale nuovo aggiornamento Creatore di Garten of Bambam prima Prima di creare il Garten of Bambam ha valutato tutti i loro jumpscares ed erano spaventosi Oggi valuterò tutti i vostri jumpscares Primo uccello opila Fa paura ma è molto lento Quindi non si arriva al secondo capitolo Faccio un po' di cacca jumpscare Il prossimo è Pigster Wow questo urlo è stato fantastico Devo dire che è stato grande grande ma non il migliore Il prossimo è Big Fiddles Era medio ma non peggiore Ok la prossima Bambalena Era spaventoso Devo dire che Devo dire che è stato grande Ma non è ancora il migliore Il prossimo Jumbo Buono ma non il migliore Prossimo Ho sentito dei suoni strani Quindi è stato molto brutto Ora Joe il puzzolente È stato spaventoso Quindi vi do il massimo Il prossimo è Selina e Lumaca Ti sto dando il cattivo Il prossimo Davvero brutto Non era nemmeno spaventoso Nabnab il prossimo Sì 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 perfetto Il migliore Te l'ho dato Prossimo Buon jumpscare E l'ultimo Cattivo Morire Sei stato così cattivo con loro fratello Per far funzionare il suo piano Ha creato delle sculture di Darten of Bambali Le ha vendute Lasciatemi fare sculture Fatto Oddio Conosceva le voci e i volti reali Dei personaggi di Darten of Bambam Non c'è modo di mostrarmi per favore Sei solo un insetto per chi ci vive Sbrigati salta dentro ho bisogno di raccontarti una storia E così ci ritroviamo Questa volta non scapperai da me Io vedo tutto Sento tutto Wow conosco le loro voci grazie a te Ha bruciato tutti i personaggi di Darten of Bambam Ah è ora di bruciarvi tutti No per favore Non farlo Ah troppo tardi Sei cattivo per me Mi sento aggiornato Wow il prossimo Guardava le persone quando attraversavano il giardino di Bambam Ma una volta si è spostato Amo questo posto Un me aspetta Ha litigato con un immoscata per averlo copiato Wow 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 Perché mi hai copiato Ha trovato una ragazza e hanno avuto dei figli troppo grandi Ha diventato un uomo grasso e ha cominciato a diventare più grande della terra Sono il più grande della terra Oh my god Zolfio sei un uomo buono Vieni qui Aggiornamento Bello Il prossimo Tutti quelli che lo vedevano pensavano che fosse il ragno No 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 Ragno Spruzzarlo Muori muori Non è colpa tua Quindi bravo Quando l'hanno messo sotto il piatto Ha scavato un buco ed è saltato su di loro Ragno sotto questo piatto O così vicino Ok penso che sia ora di togliere il piatto Cosa? Ha scavato un buco oddio Wow 300 IQ Il suo salto è spaventoso Oh Ah Oh my god Where's he at? Hello Wait Tutti erano spaventati Buono Correva sui muri come l'uomo ragno e combatteva con lui Per me sei bravo Il prossimo La sua nascita è stata molto divertente Penso che sia il momento Wow sto per uscire come nuova forma di vita Blu o rosa Blu Un occhio o tanti Uno Bello Faccia fissa o faccia normale Normale Un dente o dente normale Un dente Essere un numero o una lettera Un numero Si è riprodotto un milione di volte nell'RP di Brookhaven Il mio esercito è pronto Ha creato F e T per combattere l'uno contro l'altro ma F ha vinto La prossima brava persona Lo adoro Indovinate un po' chi non va in prigione stasera Krik sei il prossimo Ha scredato tutti gli hacker su Roblox Si è rasato a zero Ho rispetto per il fatto che tu l'abbia fatto per il meme Ha detto di iscriversi a PopCat Starts shooting What's he doing? He's getting in the cop car Oh my god Jenna Oh he did it He did it I gotta try that We gotta try that Thank you guys so much for watching Go check out some of my other videos And go subscribe to PopCat That was pretty awesome I gotta give me some of those hacks See you guys next time E' stato molto tempo fa Ma grazie Krik Vieni qui Mi sento aggiornato Si è tempo di valutare un altro Primo Schipidido E' rimasto incastrato nello scivolo e cento persone sono scivolate dopo di lui Tempo di scivolare No Ha fatto slittare il mio turno Ha creato il suo parco giochi solo per le persone grasse Questo parco giochi è solo per persone grasse Sono brava Sì Che dire di me Ha aperto un ristorante dove lo chef del poliziotto Barry scucinava e il cibo era abelenato Il giorno dopo nel mio ristorante Dammi il cibo Di più Qui Buono Di più Qui Uccinava persone magre Cattivo Successivo Era un piccolo pesce nero ma il dottore lo trasformò in uno squalo palustre Mangiava tutti in un sol boccone Il suo jumpscare era disgustosamente spaventoso Mostrami Schifoso È stato brutto Successivo Bambalina Studente vittima di bullismo in classe Bambalina Trasformata in un mostro quando erano bambini Lei si sentiva innamorata di Baldi e lui aveva litigato con Bambam Mi dispiace Bambalena ma sei cattiva E l'ultimo Spaventavano i bambini che non imparavano Il padre dei bambini che avevano spaventato si arrabbiò e li cucinò I bambini a scuola mangiavano il loro cibo Di nuovo molto cattivo Ok questo è tutto Grazie per aver guardato ragazzi e ci vediamo nella prossima puntata Grazie per aver guardato il nostro video Grazie per aver guardato il nostro video